L'orrore di Buccia, il drammatico conto delle vittime e della strage di innocenti nella cittadina dopo il passaggio delle truppe russe, missili su Odessa e Micolai. Il massacro dei civili a Buccia, sdegno in tutto l'Occidente, l'Europa sanzioni più dure, l'ONU crimini di guerra, Mosca una messa in scena, Zelensky arriva nella cittadina. Fermare le guerre e affermare i valori di civiltà, messaggio della Presidente Mattarella nella giornata contro le mine, stragi di cittadini, crimini contro l'umanità. Orbán stravince le elezioni in Ungheria e Premier per la quarta volta consecutiva. Abbiamo vinto contro tutti, contro Bruxelles e contro Zelensky. Videomessaggio della Presidente ucraino agli Oscar della musica di Las Vegas, poi l'esibizione di John Legend con artisti della paese in guerra, grande vittoria di Batiste e dei Sirsonic. Buongiorno dal Tg2, in apertura alla pagina ucraina è ancora forte, ovviamente lo sdegno per le esecuzioni sommarie e le atrocità compiute a Buccia. Questa è stata un'altra notte di bombardamenti intanto a Odessa e Micolai. E il Presidente Zelensky accusa Mosca e parla di genocidi. Allora facciamo il punto con Daniele Petraroli. Allora facciamo il punto con Daniele Petraroli.